Buongiorno onorevole, complimenti per i risultati del suo partito questo weekend. Volevo chiederle questo, quando arriverete al governo o almeno quando arriverete in campagna elettorale, cioè quando è segretario a questo governo, io credo che uno dei problemi, quantomeno di comunicazione, che avrà la coalizione sarà su un tema che oggi non è sul tappeto ma che è decisivo per mille motivi, come lei ben sa, che è quello dell'Europa, perché lì insomma in passato le posizioni sue di Salvini e di Berlusconi non è che coincidevano. Lei immagina a memoria anche degli errori o comunque dei danni che questo ha provocato in passato, lei sarà un po' meno anti-europeista o chiederà a Berlusconi di essere un po' più anti-europeista di quanto non lo sia? Guardi, io non mi considero anti-europeista, direttore, le dico la verità. Io penso che eventualmente... Ho semplificato. No, sì, però siccome poi nella semplificazione molto spesso c'è la sostanza, cioè Fratelli d'Italia è oggi co-presidente della famiglia dei conservatori europei, che è una delle famiglie più grandi nel Parlamento europeo, nel quale noi abbiamo un ruolo centrale. Ora si dice che chi contesta questo modello di unione, in questo modello d'Europa, sia un nemico dell'Europa, ma la mia idea di un'Europa confederale e non federale aveva tra i propri padri, non lo so, il generale de Gaulle, quindi non esattamente né dei nemici dell'Europa né dei personaggi impresentabili. Che vuol dire? Vuol dire che si può contestare un certo, diciamo, nazionalismo di certi paesi che oggi in Europa comandano e difendono solo il loro interesse nazionale a scapito di quello delle altre nazioni, senza per questo voler uscire dall'Unione Europea. Scusi, ma quello che per esempio sta facendo... Scusi è meglio di fermo, ma è che cercano di mantenere il ruolo di tutti i colleghi. Quello che sta facendo la Francia in Libia interessa a qualcuno? No, perché vi comunico ufficialmente che tra questi europeisti, tipo i francesi, c'è gente che se ne frega completamente dell'Unione Europea, dei propri padri, e che difende i suoi interessi come la Francia sta facendo in Libia contro l'Italia e i suoi interessi energetici. Quindi voglio dire...